E se ti dico che questi sono gambi dei broccoli, sono troppo buoni. Una ricetta antispreco assolutamente da provare. Li hai sempre buttati questi? I gambi dei broccoli. Io li utilizzo così. Nella mia cucina non si butta nulla. Prepariamoli insieme. Prendiamo dei gambi di broccoli già lavato e andiamo a tagliare tutta la parte esterna verde, fino a tenere questo tronchetto. E poi andiamo a tagliare a fettine. Farina, pepe. E ora mescoliamo. Pronti per essere fritti. E iniziamo a friggere. Facciamo la prova per l'olio caldo con un pochettino di farina e versiamo tutti i gambi. Mescoliamo fin quando non diventano dorate e dopo andremo a scolare bene. Ma bene bene? Ed ecco qui. Mamma mia che profumo! Sono buonissimi. Sale, mescoliamo. E adesso facciamo l'assaggio. Ragazzi, provateli. Troppo buoni ora li mangio tutti. Alla prossima videoricetta.